non fargliene una colpa cerchio e seno attraverso nt gennaio 2024 a cura dvb alexander cercheremo di fare qualche fenomeno ambientale se le condizioni ci saranno dove anna partecipanti eccola anna grazie alexander posso abbracciarti cara il tuo compagno ti chiede perdono per le male parole che ha usato prima di morire ma era sotto l'effetto dei farmaci quindi non fargliene una colpa tu ti sei sentita offesa ma non devi essere così devi ricordare soltanto i momenti migliori che avete vissuto insieme ecco dammi le tue mani 11 minuti e 46 secondi mettile a coppa brava così allora concentriamoci tutti in quanto l'oggetto è abbastanza grande e non vorrei sbagliare qualche passaggio e portarlo in completo 12 minuti e 7 secondi aspetta le mani sono ancora vuote le senti anna sì alexander 12 minuti e 22 ecco comincia la materializzazione non posso farti la luminosità in quanto sprecherei troppe energie ma tu le hai vissute quindi non è che ti manca come esperienza vero oh my god ecco aspetta che il piccolo cuoricino ecco l'ho completato 12 minuti e 56 secondi ecco anna grazie alexander tu hai avuto molti doni vero anna verissimo e molti sono stati significativi per te e per tutto il gruppo in quanto certi fenomeni di apporto hanno la finalità di convincervi che voi siete in contatto con un'altra dimensione e tutti voi avete avuto dei doni veramente originali alexander 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 Grazie a tutti.